Diamo il via alla partita Luca secondo te quale sarà il giocatore che potrebbe decidere questa partita? Io credo che sarà decisivo un attaccante, Lukaku Con il suo fisico eccezionale può fungere da termine Castellanos e c'è il gol della Lazio Cambia subito la storia della partita Rete pregevole Manco avesse disegnato la traiettoria a mano Io non voglio passare per quello che difende i portieri Fabio Ma con i palloni di oggi a volte la palla prende dei giri assurdi Ed è difficilissimo leggerne la traiettoria Un gol all'inizio è sempre importante Si mette bene per loro Rachmani Anghissa McDominay C'è la palla lunga in avanti McDominay Lukaku Ecco il passaggio Pericolo Può tentare la conclusione E ancora Beccato in offside dal guardaline Sono entrati bene in partita E quando è così aumenta anche la fiducia con cui riescono a giocare Vince il duello la fassua Anghissa McDominay Bolitano Serie di finte Palla a Lukaku La gioca sulla destra Di Lorenzo Lobotka Anghissa Lukaku Poi pronto al tiro Lobotka La mette sulla sinistra Pallone verso il pallo più lontano Allontana Sarà rimessa laterale Il pallone è uscito Di Lorenzo Anghissa Bolitano Non rischia E spazza il pallone Palla in out Ci sarà rimessa laterale Cross in arrivo Va di testa Piuttosto sfortunato qui però Il pallone è uscito di un nulla Non è riuscito a trovare lo specchio della porta Ma doveva tirare Ripartiranno con una rimessa laterale Rimessa malcalibrata E palla regalata agli avversari La mette in avanti Ecco il cross Si fa trovare pronto Allontana il pallone Rovella Mattias Vecino Retro passaggio Kanduzi La sua conclusione Manca lo specchio della porta Hanno avuto meno occasioni Degli avversari E ci hanno provato così Forse è meglio avvicinarsi un po' di più Lobotka Lukaku E c'è grande movimento senza palla degli attaccanti adesso Si Fabio Stanno adottando il tipico sistema di gioco del falso 9 Un sistema che toglie punti di riferimento ai difensori Gli rende la vita più difficile Esatto La chiave è proprio questa L'imprevedibilità Gli attaccanti arretrano spesso per prendere palla Si scambiano di posizione In questo modo creano degli spazi che gli uomini più veloci possono sfruttare per gli inserimenti Sia sulle fasce ma soprattutto al centro Genduzi Riceve palla da dietro Marusic Sfugge all'avversario con un numero E ora deve concludere Spazza via prontamente Opportunità di ripartire Di Lorenzo Anghissà Cerca l'uomo là davanti Sulla destra Anticipa la traiettoria del pallone Scampato pericolo Usai Evita rischi inutili E la passa dietro La partita si è accesa subito Non erano ancora trascorsi dieci minuti dal fischio iniziale Già un gol Il punteggio è quindi di 1-0 Rachmani Lungo passaggio in avanti Palla a Lukaku Palla peggio nello scontro di forza Lukaku Anghissà Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo Visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo Si fa trovare al posto giusto Al momento giusto Lobotka Fa avanzare l'azione con il lancio lungo McTominay Resta in piedi e se ne va di forza Ha spazio sulla fascia Bolitano Palla dentro di Bolitano La gioca dietro Intercetta il pallone Fermo un'azione che rischiava di diventare pericolosa Cerca di sfruttare gli spazi laterali Scatta verso il pallone Gendouzi Gendouzi Conclusione davvero molto angolata McTominay Gioca una palla lunga Sceglie di andare per via verticali Di Lorenzo Bolitano Palla dentro di Bolitano E il portiere la fa sua Giaccagni Gendouzi Castellanos Tiro davvero da dimenticare Palla dentro di Bolitano Allarga il gioco Con pallone a sinistra Bolitano L'appoggia sulla fascia La mette in mezzo Ci mette la testa Bella azione Peccato non siano riusciti a concretizzare Una grande azione sulla fascia questa È arrivato al cross tagliando fuori la difesa avversaria Gendouzi Pallone lungo in verticale Capisce tutto e interviene con sicurezza McTominay Palla a Lukaku Guaraschelia Se ne va in scioltezza Occhio al tiro La sfera entra in porta Un gran bel finale in questo primo tempo Impressionante Un gol da Accademia Da mostrare ai ragazzi delle giovanini Che gol Fabio È rimasto lucido anche dopo gli sforzi profusi Per liberarsi dagli avversari Pallone lungo in celebrations Un allergisch بعد Un allergistico Scop it Ma questa è la Horn si riparte di nuovo in parità equilibrio e spettacolo credo che ci divertiremo ancora molto Mattias Vecino Rovella bella palla ad allargare il gioco Lobotka ci prova con un pallone profondo non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità l'idea del passaggio era giusta gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico Lukaku c'è un'opportunità McTominay serve il compagno più indietro la difesa avversaria non ha concesso neanche uno spiraglio cerca aiuto nella zona laterale McTominay da gioco dietro non poteva fare molto altro rovina la festa agli avversari intercettando il pallone Guendouzi è stato un bel primo tempo il risultato potrebbe far pensare a un incontro noioso ma niente affatto la gara è stata vincente nonostante il risultato non certo è poco abituale di 1-1 breve pausa si riprenderà con il secondo tempo finora abbiamo assistito una gara giocata a viso aperto da entrambe le formazioni l'1-1 è un risultato giusto ma poteva anche essere un pareggio con più reti le squadre vanno a riposo con un gol a testa un incontro interessante e dagli sviluppi tutti da seguire partiti siamo già nella seconda frazione di gioco scodella in avanti Anghissà stanno tenendo bene il pallone un altro passaggio riuscito allontana il pericolo il Napoli recupera la palla e si prepara a reimpostare Anghissà Guendouzi Isaksen Usai viene sbilanciato dalla difesa e passa tocca con la testa e c'è il gol del Napoli partita vivissima che ora ha cambiato dominatori bravi hanno trasformato una situazione difensiva in un contropiede in pochissimi secondi veramente un'ottima giocata in un'ottima giocata in un'ottima giocata si rompe l'equilibrio e adesso la gara si fa interessante ribaltare un risultato è una grande impresa ma difenderlo non sarà affatto facile vediamo se ce la faranno Zaccagni riceve in ottima posizione pallone interessante in verticale ecco il tiro una conclusione non all'altezza del bel suggerimento ricevuto l'aveva messo davanti alla porta ma non ha centrato il bersaglio in ogni caso il passaggio è stato splendido spinazzola la dà in verticale palla Lukaku a sinistra con il passaggio pallone che poteva diventare pericoloso ci mette una pezza la mette in area sono sicuro che avrebbe potuto fare di meglio Isaksen il tempo scorre sono ancora in svantaggio vediamo come va a finire Usai ed ecco che viene servito sulla fascia spinazzola palla in avanti verso il compagno la mette sulla sinistra provano a ripartire in velocità Maruzic cross verso il centro dell'area spazza via senza fronzoli bella questa azione devono continuare ad insistere a questo punto sarebbe inutile essere prudenti devono spingere esatto Fabio retropassaggio corto non gli ha proprio dato il tempo di ragionare Luca grande risposta di Provedel di Lorenzo la mette deviazione di testa e no niente è finito in fuorigioco la gioco in profondità palla a Lukaku fa valere il suo fisico e recupera un pallone prezioso impossibile tirare in queste condizioni lo hanno intrappolato passaggio sulla destra pesino difesa impeccabile qui non gli hanno lasciato lo spazio per concludere Anghissà vede lo scatto e cerca la profondità lancio lungo del portiere spinazzola spinazzola sceglie il pallone morbido Rovella c'è la palla lunga in avanti zaccagni va via in dribbling Maruzic Genduzzi la gioca a sinistra bella giocata Maruzic tiene palla con un bel gesto tecnico Rovella Zagcagni Maruzic riceve palla da dietro crossa il pallone a centro aria McTominay la mette sulla sinistra McTominay allarga il gioco a destra guarda Schelia cerca il dribbling in velocità non si pensa su due volte la rinvia stanno cercando chiaramente di farne un altro con insistenza Fabio una buona fase offensiva è la miglior difesa pungendo così tengono il fulcro del gioco lontano dalla loro area di rigore prova a verticalizzare è vero che stanno sbagliando tanto Fabio ma l'approccio è quello giusto stanno cercando il gol con capar pietà e applicazione sono dentro la partita palla Lukaku si impone nell'uno contro uno e riprende il possesso Alessio Romagnoli Isaksen Grovella a sinistra con il passaggio Zaccagni mantiene il possesso superando l'avversario circa cross in mezzo tenta di allontanare il pallone la Lazio riconquista subito la sfera prova a darla profonda nello spazio ottimo scambio traversione di Zaccagni Vesino la Lazio a calcio di punizione niente cartellino in questa occasione ma l'arbitro non gli risparmia una ramanzina Isaksen grandissimo salvataggio del portiere bisogna lodare l'estremo difensore ha letto benissimo la situazione Spinazzola Anghissà serve il compagno più indietro non c'erano compagni a suggerire una soluzione diversa la difesa deve interpretare quest'azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo tenendo alta la concentrazione lungo passaggio in avanti pochissimo tempo a disposizione non c'è più tempo finisce qui più no no Grazie a tutti